Cercherò sicuramente di provare a vincere, sicuramente sarà dura, gli avversari sono molti, li conosco bene, cercherò di stare attento a tutti gli attacchi e nel finale se avrò gambe cercherò di ottenere la prima vittoria, visto che su 5 gare ho fatto 4 piazzamenti, però mi manca di raggiungere la vittoria. La condizione è buona, noi come squadra siamo un gruppo tutti uniti, siamo un gruppo unito quindi cerchiamo di fare il meglio come sempre e vedremo se arriva anche la quinta vittoria. Allora oggi anche tu qui per vincere? Sì sì, per vincere un po' tutta la squadra, poi io spero di far bene, spero se non va bene a me o la squadra, l'importante è la squadra che faccia bene perché siamo una bella squadra e ci vogliamo bene, siamo un bel gruppo. Andrea ha trovato secondo la scorsa edizione e quest'anno si parte con la speranza del successo? Sono venuto qui sicuramente per fare bene, però ci sono molti corridori forti e vedo come va e quello che viene mi prendo. Dopo quest'inizio stagione abbastanza buono con diversi risultati nei 5 e spero quest'oggi di cogliere la prima vittoria e speriamo di farcela dai. Rino De Candido di ritorno dalla Parigi-Roubaix Juniors, non ha voluto mancare a questo appuntamento in terra Umbra? Ma certamente anche perché è una gara di un certo spessore, di un certo livello e pertanto volevo esserci presenza, avevo fatto la promessa agli organizzatori che ci sarei venuto e di conseguenza ci sono venuto. Rino De Candido di ritorno Dopo tanto ho cercato questa vittoria in tutti i modi, non volevo arrivare ma oggi credo di essere stato il più forte su questo arrivo qui e forse credo di aver meritato di vincere. Ringrazio tutti i compagni che mi vogliono bene, che mi danno una mano, mi hanno aiutato tutta la gara. Ringrazio l'allenatore, tutti i tifosi che vengono sempre numerosi alle gare e non so che dire, sono felicissimo. Ringrazio l'allenatore, tutti i tifosi che vengono sempre numerosi alle gara. Ringrazio l'allenatore, tutti i tifosi che vengono sempre numerosi alle gara.